C'è sempre un momento in cui grazie ad un'azione le cose cambiano davvero. Il momento è arrivato. Il momento è adesso. Rivalta il punto di vista. Fai tu e nuove prospettive. Scopri territori. Trova soluzioni inesplorate. Tracciale rotte. Applicale. Navigherai a contatto con il tuo team accompagnato da degli esperti. Una giornata in Love Room è creare insieme nel presente. Innescare il cambiamento. Accompagnare la crescita. E fare in modo che ciò che deve accadere accada ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.